Gli internazionali di BNL Italia sono nella fase finale ma la fase anche più partecipata, è il weekend conclusivo in cui si vedono i grandi giocatori che si sfinano tra di loro. Il nostro gruppo per BNL è il 12esimo anno di partnership, ormai abbiamo un obiettivo ventennale, in BNL noi facciamo sempre progetti a lungo termine, secondo la cultura del gruppo BNP Paribas, una crescita sostenibile per una società che includa e che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutti. La partecipazione e l'accompagnamento al torneo oltre al momento simpatico di incontro con i nostri clienti è anche un momento di vita di comunità, quindi i nostri colleghi, i nostri collaboratori si incontrano qui tra di loro e con i nostri clienti e quindi vivono una relazione che non è solo economica ma è anche umana, personale e questo direi che è il tema più importante. Per me personalmente, essendo mai un esperto di progetti a lungo termine, visto che sono in BNL da 22 anni e mi avvio con il mandato che è stato recentemente rinnovato ai 25, è la testimonianza che lavorare con continuità significa far coincidere due obiettivi che oggi vengono presentati come alternativi e che non devono essere alternativi, la stabilità delle cose positive e delle realtà che funzionano con l'innovazione e il cambiamento di quello che si può e si deve cambiare, senza credere né nella pura conservazione dell'esistente né la cerca di un nuovismo che spesso dà soltanto più problemi che opportunità.